Ciao a tutti amici amanti dei bei libri e delle letture ad alta voce. Sono presente su YouTube dalla bellezza di quattro anni, praticamente un'era geologica se pensiamo a quello che succede quotidianamente nel mondo di internet, però mi sono resa conto di una grave lacuna. In questo lungo lasso di tempo non ho mai pensato di realizzare un video nel quale raccontarvi qualcosa di me. So che la stragrande maggioranza di voi vive bene comunque e un'esigua minoranza probabilmente avrà avuto qualche volta la curiosità di scoprire chi è questo personaggio che di tanto in tanto sbuca nella timeline, racconta aneddoti buffi oppure legge audiolibri con grande passione da diverso tempo. E quindi è giunto il momento di colmare questa falla e lo farò rispondendo alle domande che mi sono state poste da Valeria Cioccolo e Fabio Graziani. Questi due ragazzi sono i titolari di una bellissima casa editrice, una realtà editoriale molto interessante con la quale ho collaborato in passato e collaborerò in futuro. Vi sto parlando di LibroSì Edizioni e questa piccola intervista vuole essere in un certo senso il mio, chiamiamolo esordio, come collaboratrice di LibroSì Magazine, che è un book magazine dedicato a chi ama i libri. Siete pronti a scoprire qualcosa in più su di me? Bene, procediamo con la prima domanda di Valeria e Fabio. Moltissimi già ti conoscono grazie al tuo progetto dedicato alle storie narrate ad alta voce, ma vorremmo ugualmente che tu ci raccontassi chi è la narratrice di sogni e come hai cominciato. Qual è la tua prima lettura ad alta voce? Da dove deriva questa passione? Allora, la narratrice di sogni è una delle molteplici sfaccettature della mia personalità. Mi chiamo Rosanna Lia. Rosanna è il nome, Lia è il cognome. Lo specifico perché molte persone sono convinte che io abbia il piccolo vezzo di presentarmi con tre nomi di battesimo. In realtà no, ho un cognome come tutte le persone normali, solo che il mio cognome sembra un nome vero e proprio e quindi è facile confondersi. Ho trascorso la prima metà della mia vita in Calabria, la terra che mi ha dato i Natali nell'ormai remoto 1980, e la seconda metà della mia vita in Piemonte, la terra che mi ha generosamente adottata. La terza metà non lo so, ve lo racconterò quando avrò qualche notizia in più. Sono sempre stata una lettrice voracissima e molto appassionata. Amo leggere più libri contemporaneamente. Solitamente scelgo un romanzo attuale, un classico e un saggio. Da quando ho iniziato a fare audiolibri mi sono ritrovata a leggere anche dieci libri contemporaneamente e mi rendo conto che è da folli, però mi piace e ce la faccio finché il cervello regge e ne approfitto. La narratrice di sogni è un progetto nato all'incirca quattro anni fa, quando ho deciso di aprire un blog nel quale condividere con il mondo la mia passione per i libri. Ho creato il blog parallelamente al canale YouTube. Con il passare del tempo mi sono resa conto che preferivo comunicare in maniera verbale, possibilmente gesticolando, che è una cosa che mi piace tantissimo e ho notato non dispiace neanche alla maggior parte di chi mi segue. Come ho cominciato? Ho cominciato così, per gioco, senza aspettarmi nulla di particolare. Volevo semplicemente poter condividere la mia grande passione per i libri. All'epoca scrivevo anche, quindi pensavo di avere il sogno di diventare un'autrice, invece poi ho capito che io e i libri amo divulgarli e lo faccio con estremo piacere. La narratrice di sogni con il passare del tempo è diventata una rubrica contenuta all'interno del mio canale che si chiama Chiacchiere e audiolibri di Rosanna Lia. Su questo canale c'è di tutto, dagli audiolibri completi agli audioracconti, ai video in cui parlo del più e del meno e magari leggo dal vivo qualche cosa che mi interessa particolarmente. Io sono una grandissima amante della poesia oppure delle massime filosofiche e mi diverto a condividerle in questo modo, magari unendole ad aneddoti buffi che si sono verificati nel corso della mia vita. Qual è la mia prima lettura ad altavoce? La mia prima lettura ad altavoce è stata la Divina Commedia, il primo canto della Divina Commedia che ho studiato in seconda media e dovevo mandarla a memoria per un'interrogazione, per cui l'ho letta e riletta un'infinità di volte e lì ho scoperto che mi piaceva, mi piaceva davvero tanto leggere ad altavoce, però non credevo di poterlo fare diventare un lavoro vero e proprio e l'ho scoperto soltanto moltissimi anni dopo. Da dove deriva questa passione? Deriva dal fatto che quando ero piccola e volevo prepararmi bene per le interrogazioni, leggevo ad altavoce con molta concentrazione perché il fatto di leggere ad altavoce mi permetteva di far sedimentare i pensieri nella mia mente molto meglio che leggendo in silenzio. Seconda domanda, raccontaci dei tuoi progetti, il canale YouTube, le interviste, le letture di esordienti. Quale canale e aspetto di questo lavoro preferisci? Il canale è inizialmente nato per leggere brani tratti da opere di autori esordienti. Con il passare del tempo ho ampliato i miei interessi, per cui come ho accennato già prima ho creato varie rubriche. A metà del 2019 ho iniziato a proporre alle persone che trovavo particolarmente interessanti, con le quali sono in contatto su Facebook o anche su YouTube, delle interviste sotto forma di chiacchierata semiserie. È stata una cosa che mi è piaciuta molto fare, l'ho fatta più o meno per un anno e ho avuto la possibilità di comunicare con persone stupende, con scrittori che oggi sono anche affermati ma che io ho scovato quando erano ancora in germe. La parte che preferisco è quella legata alla lettura ad alta voce. A me piace tantissimo narrare perché è un momento che concedo a me stessa, lo faccio come se si trattasse di una forma di meditazione, quindi mi fa stare molto bene. Per cui chiudermi nella mia saletta di registrazione, che è quella che vedete qui, è per me un momento veramente intenso e veramente gradevole. La parte che mi piace meno invece è quella in cui devo riascoltare le cose che ho letto e narrato e ripulire e correggere i file per riuscire a ottenere degli audiolibri di buona qualità. Terza domanda. Hai letto tantissimi libri e incontrato moltissimi scrittori. C'è qualche storia o personaggio che ti ha particolarmente colpito? Ho letto e proposto sul canale veramente tantissimi libri. Devo dire la verità, sono in imbarazzo a dover scegliere fra tutte queste opere perché mi sono capitati testi veramente molto pregevoli che secondo me meriterebbero di avere un maggiore risalto nel mondo dell'editoria italiana. Diciamo che così, su due piedi, i libri che ho più amato sono quelli scritti da Maria Sardella. Ho amato tantissimo la scrittura di Giovanna De Rosa, di Vito Di Taranto. Essendo anche una persona che ama coltivare il senso dell'umorismo, mi sono divertita da matti a leggere anche i romanzi di Andrea Pasquale che mi ha praticamente quasi uccisa facendomi più volte cadere dalla sedia per il troppo ridere con le disavventure di un italiano in Cina e il ragazzo che girava le viti sbagliate del mondo. Quarta domanda. Vuoi dare un consiglio a chi si avvicina al mondo dei social dedicati ai libri? Cosa serve per dare vita ad un progetto come il tuo? Per dare essere un po' folli innanzitutto. Bisogna avere una grandissima pazienza perché i risultati arrivano dopo molto tempo. Se apri un canale YouTube è difficilissimo che gli iscritti ti piovano addosso così da un giorno all'altro, a meno che tu non sia già famoso. Però insomma quando parti da zero devi avere una grandissima pazienza, una grandissima dedizione e soprattutto ho tanta voglia di divertirti. Io per tre anni ho avuto pochissimi iscritti e un numero veramente esiguo di visualizzazioni. Sono cresciute nell'ultimo anno e mezzo quando ho cominciato a collaborare con canali molto più grandi che in qualche modo hanno promosso il mio modo di narrare. Un consiglio spassionato che do alle persone che si avvicinano al mondo dei social per promuovere i libri che è una cosa bellissima perché i libri sono un tesoro immenso di grandissime proporzioni. Bisogna cercare di diffondere l'amore per la cultura il più possibile. È quello di approcciarsi a questo mondo con grande umiltà, con dedizione, pensando di fare qualcosa di bello per il prossimo. E un po' per volta la costanza, la passione, la dedizione verranno premiati. Quindi non abbiate fretta. Quando aprite un canale su YouTube oppure una pagina su Facebook o un profilo Instagram nel quale volete diffondere l'amore per la cultura, divertitevi. Cercate di produrre contenuti di qualità. Non fatelo per per i follower. Fatelo per portare avanti una passione. Quinta e ultima domanda. Qual è il libro che sceglieresti oggi di portare con te in valigia? È difficile perché ho amato davvero tanti i libri. Se dovessi partire per un viaggio e portare con me un solo libro, probabilmente sceglierei il libro che mi ha cambiato la vita. In un certo senso mi ha cambiato la vita quando ero adolescente e mi ha permesso di guardare il mondo con occhi diversi. Posso dire che si tratti di un libro che in qualche modo ha influenzato il mio modo di vedere il mondo e il mio modo di percepire la realtà. Si tratta del Vagabondo delle stelle di Jack London, l'autore meglio conosciuto per essere l'autore di Zanna Bianca o Il richiamo della foresta. Il Vagabondo delle stelle è un libro che ho amato tantissimo perché raccontava le vicende di una persona che nonostante fosse imprigionata e spesso e volentieri era sottoposta all'utilizzo della camicia di forza in una cella di isolamento, riusciva a staccarsi dal corpo e rivivere le sue vite passate. Si tratta di una storia che ho trovato incredibilmente intensa e nella quale mi sono rispecchiata molto in quel particolare periodo della mia vita. È un romanzo che consiglio caldamente, un classico pubblicato nei primi del Novecento che ha lasciato un solco profondo nella mia immaginazione e nella mia memoria. A questo punto ho risposto a tutte le domande che mi sono state gentilmente rivolte da Valeria e Fabio. Spero di non avervi annoiati, spero di essere riuscite in qualche modo a ispirarvi o almeno a incuriosirvi e vi ringrazio per aver ascoltato l'intervista fino alla fine. Ci vediamo prestissimo sul libro Sim Magazine e sul mio canale Chiacchiere Audio Libri di Rosanna Lia. Ovviamente se quello che faccio vi piace per favore lasciatemi un like e un commento al quale vi risponderò con immenso piacere. Grazie, a presto, ciao!